E come abbiamo preannunciato, siamo veramente felici di ospitare stamattina nei nostri studi Luciana Delle Donne. Buongiorno Luciana. Buongiorno a te, grazie per avermi accolta. Grazie a te per essere qui con noi, grazie alla collega Paola Russo che ha svolto un prezioso lavoro di intermediazione in questo senso. Chi è Luciana Delle Donne lo abbiamo anticipato in apertura ma in questa circostanza, in questo momento vorrei utilizzare il video della premiazione, del conferimento dell'onoreficenza dell'ordine al merito della Repubblica Italiana che Luciana ha ricevuto proprio dalle mani del Presidente della Repubblica, Mattarella, che proprio stamattina porta con sé al collo e quindi ascoltiamo attraverso questo contributo video chi è Luciana Delle Donne. Luciana Delle Donne. È un ex dirigente di banca che ha deciso di fondare Made in Carcere per diffondere la filosofia della seconda opportunità. La Onlus si occupa di creare lavoro remunerato all'interno delle carceri dove le persone detenute realizzano prodotti con materiale tessile scartato dalle imprese ricevendo un percorso formativo con lo scopo di un definitivo reinserimento nella società lavorativa e civile per un'economia rigenerativa e circolare. Eccoci, eccoci a ritorno in studio, a rientro in studio con la medaglia conferita dal Presidente della Repubblica, Luciana, delle donne. In realtà c'è stato uno scambio di doni, Luciana, perché abbiamo visto che hai messo al polso del Presidente il bracciale. Era tutto organizzato nel senso che lui non lo sapeva, ma il cerimoniale avevo chiesto, visto che l'avevo anche donato a Papa Francesco, quindi ci tenevo che anche lui avesse un nostro segno di, noi lo chiamiamo braccialetto passaparola, perché trasferisce proprio questo stile di vita, questa filosofia della seconda opportunità. e lui mi ha appunto dato questa onorificenza di ufficiale al merito, che è una cosa veramente che portiamo con orgoglio tutti quanti nel team di Made in Carcere, perché è un dono per tutta l'attività che svolgiamo da tanti anni. Succedeva solo a marzo dell'anno scorso, è senza dubbio un grande, importante riconoscimento al lavoro che svolgete con Made in Carcere e a noi ci fa piacere parlarne proprio oggi, giornata internazionale della solidarietà, perché ecco la solidarietà può essere donata in mille modi a una pluralità di persone in difficoltà, ai margini della società. Ecco, con Made in Carcere tu sei entrata con il tuo staff nelle carceri italiane, questi luoghi che tante volte per noi rappresentano non una zona grigia, ma proprio una zona buia. Non sappiamo quello che succede lì, per quanto ecco sia luogo comune che il carcere debba essere anche un luogo di recupero, rieducazione per ritornare nella società a svolgere con una propria parte attiva. Con Made in Carcere succede tutto questo, quindi ti pregherei di entrare nel dettaglio di quello che fate mentre scorreranno delle immagini appunto relative al lavoro dei vostri laboratori. È un'esperienza veramente importante, come sai io sono un ex dirigente di banca, ho creato la prima banca online in Italia 24 anni fa e 20 anni fa ho scelto di lasciare il mondo della finanza, dell'innovazione tecnologica per vedere di dare il mio contributo all'innovazione sociale, laddove abbiamo inserito due elementi fondamentali estremamente trascurati. Made in Carcere nasce oltre 17 anni fa, nel 2006 abbiamo cominciato ad avere questa esperienza. I due elementi fondamentali sono includere le risorse emarginate, le risorse scomode, che nessuno, come dicevi tu, nessuno conosce perché butti la chiave e tutto scompare. Dall'altra parte l'ambiente, noi avevamo voglia proprio di ricostruire con rispetto anche una logica di offerta di qualcosa che tenesse conto dell'ambiente, quindi tutti questi materiali che usiamo, anche quest'abito, sono tutti pezzi di tessuto che altrimenti, che la moda scarta, ma che altrimenti sarebbero andati al macero creando CO2. Quindi diciamo che le attività, tutta questa licra che si vede, sono i famosi braccialetti passaparola. Qual era il nostro desiderio? Dimostrare che bellezza ed eleganza potessero entrare in questi luoghi. Quindi noi li abbiamo arredati come una casa, abbiamo attrezzato degli spazi anche di socialità, dove ci sono tappeti, divani, mobili antichi. Abbiamo creato la Maison di Lecce, in particolare, che abbiamo uno spazio più ampio, abbiamo tappeti, divani, mobili antichi, come dicevo, palestra, sala riunioni, addirittura la sala lettura, dove ci sono delle poltrone che ci sono state donate. Tutte cose che noi abbiamo raccolto attraverso donazioni, attraverso la sensibilizzazione da parte delle persone che sono fuori, che non conoscono questo mondo, ma che vogliono dare un piccolo contributo. Noi adesso per esempio abbiamo subito un danno incredibile, soprattutto è un sentimento doloroso quello di aver subito un incendio nel carcere di Lecce il 25 luglio e ha distrutto tutto. Quindi dovremmo rifare l'impianto elettrico, comprare le macchine, ripittare, ma non abbiamo paura perché sappiamo di non essere mai soli. Quindi quello è un simbolo di rinascita. E come dicevi tu, l'attività che viene fatta in carcere, che dovrebbe essere educativa, spesso si trasforma in punitiva, perché non ci sono gli strumenti, non c'è proprio la materia prima che possa dare una mano a queste persone che hanno commesso un reato, sicuramente stanno pagando con la privazione della libertà, ma immaginiamoci una persona che è lì chiusa in tre metri per due, in tre passi per due, immaginiamocela che non possa fare nulla in tre in una cella con il sovraffollamento, con il caldo. Non è molto impegnativo formare queste persone. Noi lo facciamo perché abbiamo questa passione, anche questa missione che sentiamo proprio come vocazione di aiutare gli altri. Tant'è che invitiamo degli studenti dell'Università Luisa, ad esempio, questo è l'undicesimo anno che vengono a stare un mese in carcere. Ma noi apriamo le porte del carcere proprio per avere questo scambio di esperienza. Vediamo le persone, quando escono non sono più le stesse, perché comprendono anche di aver capito che non avevano capito nulla della vita. Nel senso che è importante non costruirsi troppe sovrastrutture ed è importante anche con una circolarità aiutare le altre persone. Se no mi spingi off, io continuo. No, stavo pensando proprio questo, Luciana. I nostri amici telespettatori, i nostri amiche telespettatrici che ci seguono da tutta Italia con molta attenzione tutti i giorni, sanno che le nostre interviste non sono lunghissime, ma tu sei riuscita a concentrare in poco tempo la vera essenza del prezioso lavoro che fate, che è importante senza dubbio per quante sono negli istituti di pene di detenzione, ma anche per il mondo esterno che grazie a me di in carcere contribuisce a questo processo di osmosi tra quello che non dovrebbe essere lì dentro e quello che potrebbe essere lì fuori. Per cui davvero grazie per il prezioso lavoro che fate e che senza dubbio contribuisce a far succedere dei piccoli miracoli in questi istituti di pena. Ecco, se tu dovessi raccontarci solo un episodio, magari un ricordo che hai più a cuore. Beh, ricordi che ce ne sono tanti, quotidiani, la soddisfazione più grande che è recente, ma ce ne sono anche la figlia di una nostra collega detenuta, si è laureata in criminologia, un'altra ragazza sta studiando all'università, ma la gioia recente quando una ragazza tossicodipendente non aveva tutti i denti e non ha mai lavorato. Noi gli abbiamo dato questa opportunità, contrariamente diciamo alle situazioni, perché una ragazza difficile richiede più attenzione. E allora io ho chiesto alla responsabile del laboratorio, Stefania, anzi saluto Stefania, Ilaria, ma tutte quante le ragazze perché ci stanno guardando sono felice di salutarle. Questa ragazza non aveva molte opportunità, soprattutto di lavoro in carcere, assurdo. Invece noi abbiamo lavorato proprio per costruire intorno a lei una protezione, una competenza, una professionalità, lei sta lavorando benissimo, ha messo i denti, ha un sorriso stupendo, un'altra ragazza ha comprato gli occhiali e le lenti a contatto, quindi diciamo che sono piccole soddisfazioni, ma immaginiamoci l'assenza totale di tutto, senza avere capacità decisionale di nulla, non possono neanche alzare la mano per fare qualcosa. Noi gli abbiamo dato l'opportunità di ricostruire con dignità e consapevolezza la loro vita. Ecco, lo dicevamo prima, sono luoghi che possiamo associare nel nostro immaginario, dei luoghi bui, con Medi in carcere avete portato non solo un raggio di luce, ma anche tanti bei colori, di questo vi siamo grati. Tra l'altro Luciana ti dico questo, che noi riprenderemo da metà settembre anche i programmi di approfondimento, tra questi c'è la regola della sostenibilità, dove appunto parleremo di sostenibilità e sono certo che in una puntata potremmo ritrovarci, magari in videocollegamento, non ti faremo ritornare qua perché ci separano, ahimè, tante ore di macchina e quindi sarà bello ritrovarsi e quello che ci diciamo adesso, quindi non è un addio ma un arrivederci. Lo facciamo volentieri, anche da Trani, Taranto, Matera, Bari, Lecce, che sono tutte le sedi delle nostre sartorie. Perfetto, quindi ecco, come dicevamo, non è un addio ma un arrivederci, io non sono il Presidente della Repubblica, ma tu adesso metterai anche a me il braccialetto. Eccolo qui. E' una promessa, una promessa che ci risentiremo. No, aspetta così, ecco qua. Ok. Grazie. Grazie a te, grazie a te di cuore. Il bello della diretta ci è cascato il microfono. Grazie per tutto quello che riusciremo a fare insieme. A prestissimo e grazie a te per il prezioso lavoro che svolgi e che svolgete con me in carcere. Grazie a te. A presto. Grazie a te.